Donna 31enne, ingiuria, minaccia e poliziotta a controllo, denunciata. Una donna è stata denunciata per reati di oltraggio, ingiuria, minaccia pubblico ufficiale e in osservanza ai provvedimenti dell'autorità. Tutto è iniziato quando gli agenti della Polizia di Stato, in servizio alle volante della questore di Siracusa, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio anti-Covid, fermavano la donna 31enne siracusana che, in soffrente al controllo delle polizie, andava in escandescenza ingiurando e minacciando i poliziotti. Gli agenti hanno altresì segnalato un uomo siracusano di 31 anni perché trovato in possesso di marijuana per uso personale. Sempre nella mattinata di ieri, agente delle volante del reparto prevenzione del crimine di Cateni hanno effettuato dei controlli straordinari del territorio e hanno identificato 27 persone e controllato 24 veicoli. A Davolo gli agenti del commissariato hanno denunciato una volese di 51 anni per aver istigato a violare le vigenti misure di contenimento sanitario. L'uomo ha diffuso tramite social un video che lo ritraeva mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale 4 incitando i suoi concittadini con espressioni offensive, minacciose e intimidatorie a violare le misure dettate dal Governo e dal Presidente della Regione Sicilia per limitare la diffusione del virus Covid-19. Nella circostanza l'uomo è stato altresì sanzionato per essere uscito dalla propria abitazione a avere praticato attività sportiva contravvenendo alle misure di contenimento sanitario.